Il gossip del famoso triangolo amoroso non si placa. A nutrirlo è la stessa Lepeciso che ha deciso di dare un consiglio alla rivale, le sue parole. Dopo un lungo periodo di agitazione e di silenzio, Loredana Lepeciso sarebbe tornata a parlare di Romina Power, Albano e delle problematiche legate alla salute dell'ex compagno. Qualche giorno fa, il cantautore ha annunciato il suo ritiro dalle scene che comincerà a partire da gennaio per fare alcuni esami alle sue corde vocali. Infatti, Lugola d'Oro di Cellino San Marco è tornato ad esibirsi assieme all'ex moglie Romina in giro per il mondo. Secondo i principali siti di gossip, l'avvicinamento tra Albano e Romina avrebbe scatenato una forte gelosia nell'Allepeciso, ex compagno. L'Allepeciso e le nuove dichiarazioni su Romina Power. Secondo quanto riporta la rivista Nuova, la coppia è ormai separata da Messi, così come non si vedono le possibilità di un ritorno di fiamma tra Albano e l'ex moglie Romina Power. Eppure per il bane dei figli sembra che si siano ritrovati tutti presso Villa Carrisi in Salento. In tal modo i due figli più piccoli del cantautore, Albano Junior e Yasmin possono passare del tempo assieme alla nonna Yolanda e ai fratelli maggiori Yari, Romina Junior e Christelle, madre del piccolo Kei. Per quanto riguarda l'Allepeciso e Romina, potrebbero finalmente approfittare dell'opportunità per dire stop ai dissapori del passato e trascorrere le vacanze insieme in serenità. La rivista ha svelato un gossip sull'attuale legame tra le due rivali in amore. Infatti, sembra che Loredana sia tornata a parlare di Romina dicendo, se davvero la Power vuole bene al suo ex marito, non deve obbligarlo a cantare. Una dichiarazione che suonerebbe come una sorta di consiglio rivolto a Romina oppure una specie di preoccupazione per l'artista pugliese. Non si sa se le indiscrezioni riportate dal settimanale nuovo corrispondano al vero, ma date le condizioni di salute dell'artista, sarebbe del tutto logica una certa apprensione da parte dell'ex compagno. L'Aletto Ciso vorrebbe tornare con Albano? Per il momento, non si sa se Loredana Letto Ciso voglia davvero tornare con Albano, ma l'unica speranza per ricucire i rapporti è la sua pausa professionale. In tal modo potrebbe tornare a stare più vicino alla sua famiglia e prendersi cura dei suoi figli più piccoli. Il ritiro definitivo dalle scene è previsto per il 31 dicembre 2018. Tuttavia da soli pochi giorni fa si vocifera di un presunto ripensamento da parte cantautore riguardante il suo avvio alla musica. Insomma, sarà davvero così oppure smetterà di cantare? Chissà, per il momento è ancora troppo presto per saperlo con certezza.